Più di vent'anni che vediamo qua, vengo qua per correre, fare delle corsette. Però è un paio di giorni che ci sono questi tronchi e quindi non si può parcheggiare. Abbiamo trovato giovedì mattina questa novità, però non sappiamo il motivo, avremo capirlo anche, perché qua è importante per noi fermarci, posteggiare l'auto, ci sono tante famiglie che vengono con i bambini, che fanno i giri nei sentieri. Dopo la notizia e le tante segnalazioni a Sveglia Trieste, siamo andati a Basovizza a verificare sul posto. Tronchi e grosse pietre sono in effetti ancora là a impedire l'ingresso delle automobili nell'area sempre usata come parcheggio, per chi va a fare una passeggiata o una corsa, anche in bici, lungo il sentiero Ressel, un luogo frequentatissimo dai triestini, soprattutto nei fini settimana. Diciamo che qui di solito sì, c'erano tante macchine, adesso lo spazio è ristretto. Una novità, non so, forse c'era troppa gente domenica, io ho visto macchine parcheggiate in posti impensabili domenica, questo sì. Infatti avevo già visto sulla strada per venire su che hanno messo dei tronchi, ho detto, beh, lì andava bene perché proprio parcheggiavano in mezzo al prato, ma qua è stata una sorpresa perché chi viene a correre, chi viene in bici, lascia sempre qui le macchine. Assessore, è venuto a vedere, a fare un sopralluogo? Sì, sono venuto a fare un sopralluogo perché ieri sono stato avvisato da amici miei, sportivi, escursionisti, ciclisti, che dopo 30 e passa anni è stata chiusa quest'area. Adesso si tratta chiaramente di verificare se ci sono le autorizzazioni. L'altro giorno mi sembra che hanno chiuso, ma noi non parcheggiamo mai qua. Anche i residenti a Basovizza sono preoccupati, temono il fenomeno dei parcheggi selvaggi lungo le altre strade del paese, anche perché il posteggio è spesso usato per recarsi nei vicini esercizi commerciali. Qualche anticipo di caos c'è già stato questa mattina, nonostante il vento freddo e il numero tutto sommato limitato di persone presenti. Abito a Basovizza, porto enormemente i cani, è una sorpresa, non sapevo essere chiuso quest'area e non so neanche il motivo. Anche perché sono più parcheggi di macchine qui che non in centro a Basovizza. Il sabato e la domenica a Basovizza è impossibile trovare il parcheggio e rappresenta soprattutto il parcheggio delle persone che vengono a portare i cani o a fare sport. Quindi non so dove parcheggeranno, parcheggeranno in maniera selvaggia lungo le strade, credo, creando ulteriori disagi al traffico. Può creare disagio perché infatti adesso ho fatto difficoltà a trovare il parcheggio. Ecco, infatti, poi adesso che c'è il covid e tutti vanno a camminare, non ci sono parcheggi, quindi è un grave problema. Grazie.